Siamo prossimi alla partenza di questa terza corsa, il premio Ferrari. Quattro anni, non vincitori, 18.000 euro in carriera per sette concorrenti al via. All'1, Danao degli Dei, Alessandro Gocciadoro al 2, Davos dei Greppi, Roberto Vecchione al 3, Miss Gibe, Romolo Sani al 4, Disneyman, Mario Manzoni al 5, Darling, Gennaro Amitrano al 6, Damon Dino, Enrico Belei al 7, Darla in Staff, Paolo Pietro Paoli. Leggermente discosto, Darla in Staff, che di fatto rinuncia alla partenza. Sacco che avviene in questi standi. Dal centro del gruppo, Miss Gibe si staglia al comando su Danao degli Dei, con all'esterno Damon Dino, il quale forza anche sull'errore di Miss Gibe, così Damon al comando, Danae che insegue, poi più indietro gli altri, mentre per linee esterne si fa vedere Darling, si va così al completamento del primo quarto di gara. 28 e mezzo per il leader, ovvero Damon Dino, che davanti alle tribune prova a moderare l'andatura, con Darling che giunge al mezza lunghezza, dietro c'è sempre Danao degli Dei. A precedere ancora il numero 2 di Davos Dei Greppi, 600 in 44 e 2, con sempre Damon Dino che comanda. Ora mosso dalla corda Davos Dei Greppi, 59 e 9, il passaggio a metà gara. Gruppo abbastanza raccolto, con Damon Dino, sempre leader, che si porta all'esterno Darling, di modo che Danao rimane lì, compresso alla corda, il chilometro in 1,14 e 9. La natura ancora comoda, ma adesso agli ultimi 500 si va sveltendo, con Damon Dino al comando, il gruppo che è molto raccolto, Danao in schiena, poi 2 all'esterno, con il 4 di Disney Man in terza posizione alla corda. Si va all'ingresso in addirittura d'arrivo con Damon Dino ancora leader, non ha spazio Danao degli Dei anche sul calo di Darling, ora lo spazio si crea e quindi scappa Damon Dino da Danao, il quale prova a ricucire, poi si fa vedere con il numero 2 anche Davos Dei Greppi, ma Damon Dino nel finale si mantiene ancora in evidenza su un Danao degli Dei e Davos Dei Greppi. 43,9 a chiudere per il numero 6 di Damon Dino, Enrico Bellei alla guida e al training, olori della Maiorze, il tempo totale 1,58 e 7, la media al chilometro recita nell'ordine dell'1,38,13,9, vedete il numero 6 del figlio di Nesta F o Stregaggette, che nel finale, pur vedendo ridursi il suo margine, mantiene ancora ampio spazio nei confronti di Danao degli Dei, che può essere solamente secondo 6-1-2 l'ordine di arrivo di questa terza corsa. Grazie. Grazie.